Siamo qui con queste due bottiglie in mano, sono nate qua ad Arezzo, Jacopo Rossi, Podere di Pomaio. Un'idea veramente stratosferica, un'idea programmata proprio per la SBA, per la Scuola Basket Arezzo, perché è un'annata particolare questa, come particolare questa di questo vino Chianti del 2017. L'idea nasce da Mauro Castelli, però è stata accettata da me con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di fare una special edition del nostro Chianti. La special edition significa un'edizione speciale con il logo della SBA, questo perché condividiamo con la SBA i valori della sostenibilità. Sostenibilità significa per noi produrre vino in questo caso rispettando il territorio, quindi consegnando alle generazioni future un pianeta migliore di quello che stiamo vivendo adesso. Nella scuola basket ci sono tanti giovani ed è importante partire proprio dai giovani per la condivisione di questi importanti valori. Questo è un Chianti 2017, San Giovese, che è un vitigno del nostro territorio, e Merlot, che è un vitigno internazionale. Siamo onorati che un'azienda di questa caratura della provincia di Arezzo, che si affaccia anche al mondo internazionale e nazionale, abbia legato insieme a noi questo marchio. Ho proposto a Jacopo questa idea che noi poi abbiamo regalato alle istituzioni e a tante persone, che ci danno una mano, insomma, è stata molto apprezzata perché probabilmente già si conosce il valore del vino. Quindi mettere il marchio SBA in un vino così importante per me era una cosa importante. Jacopo ha colto al volo la cosa e insieme abbiamo pensato di fare questa cosa, che non c'entra niente con il basket, che però forse come radici è importante, il giovane, il biologico, l'insegnamento ai giovani nel futuro. Quindi sono tutte cose, secondo me, importanti, valori molto importanti, che la SBA rispecchia come rispecchia l'azienda di Pomai.